Il 9 novembre 1989 ricordo poco Mi ricordo le immagini del telegiornale e l'entusiasmo delle persone intorno a me Era evidente che qualcosa stava cambiando, che c'era un cambiamento nel mondo E che questo cambiamento era vissuto con profondo entusiasmo e profonda speranza Si pensava probabilmente che si stava andando verso un mondo migliore Ero piccola, non avevo ancora compiuto 9 anni, quindi i ricordi riguardano più che altro Le reazioni delle persone adulte intorno a me, le persone adulte con le quali mi relazionavo Grazie 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 Grazie